Ehi ragazzi, come va? Io sono Fioriniki E io sono Steph e questo giochiamo a Lego Jurassic World E ci siamo ricordati dell'esistenza dei giochi Lego Abbiamo visto che nella Playstation c'era la demo gratis di Jurassic World E abbiamo deciso di provarlo, perché no? Esattamente, allora ragazzi, prima di tutto lasciateci tanti likes per farci capire se vi piace o meno l'idea magari di una serie Questa è solo dentro la demo, quindi facciamo un solo video Vediamo come va con i likes e con le views e vediamo un pochettino In ogni caso, in alto a destra, vi lasciamo pure un bel sondaggio con i 5 giochi Lego più famosi, diciamo, quelli che sono piaciuti di più nel tempo E quelli che preferiamo noi, giustamente Esatto, e potete votare per decidere bene o male se vorreste appunto una serie su quale di quei 5 la vorreste Perché comunque sono tanti e sono molto diversi E quindi vogliamo capire quali vi piacciono di più Iniziamo con questo, perché a noi i dinosauri piacciono troppo Ma lo sai che io da bambina avevo troppa paura di Jurassic Park e di tutti i film Quindi ho po' paura di giocare Ma guarda che bello però Ma lo so, è bellissimo, è bellissimo sto gioco Perché avere paura? I dinosauri non è che mi fanno... Ma sono carini Mi lasciano un po' così, insomma, insomma Guarda che bel posticello, guarda, hai visto il maiale scappare? Ma l'hai visto in bici? In moto? Ma è bellissimo Voglio vivere qui dentro Credo che ci sia il maiale che si è incastrato in sopra Il signor maialino è incastrato Dobbiamo salvarlo immediatamente Poverino, guarda che poi lo sbrana un dinosauro, quindi salvalo, mi raccomando Allora, mi devo un attimino ambientare nel gioco perché è la prima volta che lo provo Con X si salda, classico Ok Poi, non lo so, dobbiamo arrivare fino allì su Hai qualche idea? No Però vedo quelle foglie Le vedi quelle foglie fatte di Lego? Sì Secondo me dobbiamo arrivare a quelle in qualche modo In qualche modo Ho pensato la stessa cosa Però non mi sembra che da lì faccia Quindi io provo a salire tramite questa costruzione Sì, mi sembra una buona idea Mi sembra una buona idea, certo Prova Scusi No, non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Credo che possiamo costruire qua con cerchio Tini premuto Sì, sì, sì Se abbiamo distrutto le scatole È bellissimo È bellissimo Quanti soldi Prendi, prendi, prendi Ma questo è come l'ho raccato? Ah, così Allora, può rampicarsi sui muri Lego per aggiungere aree più in alto Ok Ah, praticamente col DNA hai imparato a scalare Quindi l'abbiamo costruito Adesso possiamo andare su Guarda che bellino come scala Guarda come siamo abili Come siamo abili Su, 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 su Andiamo a salvare signor maialino Signor maialino, stiamo arrivando Un oggetto affilato come un coltello Può essere usato per tagliare corde e li ha nel Lego E immaginavo già perché vedi sono quelle che bloccano Esatto Che bloccano signor maialino Vai signor maialino, ce la puoi fare Sei salvo adesso Sei salvo È tutto a posto Però io voglio vedere dei dinosauri Oh mamma mia Ed è scappato il maiale Ma hanno combinato un disastro Hanno combinato un disastro Maialino, dove sei scappato? Scusa, ti dobbiamo recuperare immediatamente Qualcosa possiamo fare? Guarda Prova Premi, 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 premi No No, vabbè No No È bellissimo Cioè che cos'è poi? Non capisco Abbiamo creato qualcosa di complicatissimo Allora, per usare questo cannone ti serve un maiale Trovane uno Ma no Perché dobbiamo usare un maiale E' giusto così Guardalo, si è nascosto nel cassonetto ed è convinto di non essere visto Guardiani e cacciatori come possono raccogliere oggetti speciali Voglio arrivare impronte per trovare Ok, ok Dove l'hai visto? E' lì nascosto, lo vedi? Non sei molto furbo, signor maialino Ti nasconde pure come ti amicili Ciao Dai, vieni su Allora Vieni Come lo prendi? Non ne voglio dare un pugno Voglio precisare una cosa Siamo rimasti dieci minuti tra un taglio e l'altro A cercare di capire cosa dovevamo fare Infatti dovevamo trovare questa specie di oggetto Che ci fa seguire le impronte del maiale Anche se noi lo vedevamo A quanto pare dobbiamo proprio seguirlo come investigatori di Sherlock Holmes Sì, esatto Non aveva molto senso Perché dicevo Lo vedo lì, scusa Chiappiamolo Invece no, vedi? Dobbiamo usare proprio Uh, che è questa cosa? Ah, ok Ma perché troviamo oggetti nuovi? Bellissimo Costruiamo qualcosa? Cosa sarebbe? Una torta? Uh È proprio signor maialino È proprio signor maialino Ma hai visto proprio quelle capriole? Cioè, fantastica Ma è una torta finta Ma se ne è accorto che è finta? Bellissima La devi posizionare qua sicuramente Sì, sì, sì Ok, povero Ah, ti ha pure buttato giù Hai visto? Ok Vai Ma io non capisco Cosa dobbiamo fare con questo povero cannone Ma questo povero maialino No No ragazzi No eh Allora aspetta Aspetta Usa Come quella Una corda Per tirare i ganci Lego Ok quindi dobbiamo Usare il suo super potere Ok Sicuramente qua Esatto Ok Stiamo capendo hai visto E poi faremo tantissimo Cioè ma Vabbè Era il modo più veloce Per farlo tornare nel recinto Capita adesso Oh no Oh no Loro non li vogliono vedere Andare in giro Che belli che li hanno fatti Che belli Sono davvero fantastici Infatti stavo guardando anche Stanno parlando Guarda stanno organizzando No Adesso andiamo a mangiare No non hai capito Che succede? Davvero? Sì Andiamo in giro? Sì Siamo pure veloci raptor Bellissimo Sì Proprio così Bellissimo Non pensavo che si potessero comandare i dinosauri Ma è fantastico Allora Buongiorno signori dinosauri Avete mangiato bene oggi? Allora Oggi ci organizziamo Sì Facciamo così Sì Facciamo un piano di fuga Scappiamo E sbraniamo tutti Come in tutti i Jurassic Park Quindi mi sembra un piano perfetto Organizziamoci per andare In giro nel parco Allora i raptor Allora i raptor possono operare interruttori per dinosauri Per aiutare il loro branco premendo cerchio Vedi sono pure intelligenti Vai Vai Guardate Guardate Miam È fantastico Ma quindi stiamo aiutando i nostri personaggi Giusto? Vedi a ricostruire questi E sì Per ora sembra un tutt'uno Capito? Tra umani e veloci raptor Il che è una cosa fantastica Credo di sì Vedi? Vediamo Aiuta Si sta salutando? Sono super intelligenti Andiamo di là Andiamo di là Dice Corri Usciamo Nella foresta Oh no Scappa Nasconditi Finché puoi È terribile questa scena No 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 C'era visto che gli dice anche Andiamo da quella parte Con le macchie Checkpoint Ok Ma dobbiamo andare davvero a caccia di maialini? Spero di no Sembra un gioco creato da Capitan Jeff Sì assolutamente Guarda potrebbe Vedi? Già che il dinosorio verde potrebbe essere Capitan Jeff travestito Potrebbe essere davvero lui Ti ha fregato Ti ha fatto giocare a questo gioco attirandoti Ho detto salviamo i maialini È fantastico E invece era proprio il contrario Invece è proprio il contrario Allora Tutto c'è questa gabbia? Ah ok da dove siamo usciti credo più o meno Dici? A me sembra un'altra zona Infatti Scappa Hai intenzione di farlo scappare? Sì Sì Abbiamo proprio intenzione di farlo scappare Allora si è nascosto lì Credo che lo dobbiamo recuperare più che farlo scappare Anche secondo me perché sto notando Ok che in Jurassic World c'è una collaborazione proprio tra umani e dinosauri Quindi sicuramente questi dinosauri sono molto molto intelligenti e aiutano gli umani Ma non li vogliono sbranare Capito? È bellissimo È molto diverso Sì 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 Sono molto intelligenti Allora Scusate Adesso non ricapiamo la strada Ci possiamo arrampicare Possiamo fare Ah no c'è qua un coso di DNA Sì Guarda Anche loro sanno montare le cose Vedi che sono super intelligenti Te l'ho detto Te l'ho detto Sono super intelligenti E cosa stiamo creando secondo te? Un'astronave Vuoi un drone? Ah no guarda Ci siamo incastrati Ah salta meglio Non è che la devi spostare Oh ok ok perfetto Perfetto Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora signor maiellino Lei non può scappare perché non solo sono un veloci raptor Ma sono anche intelligentissimo Dove sei? Dove sei nascosto? Dove sei? Dove sei? Ti troviamo tanto Allora Secondo te dov'è? Ah non è la più pallida idea Continua a scappare Spacco tutto perché secondo me sei nascosto da qualche parte Ma anche secondo me sei nascosto da qualche parte ho sentito un suono Lì sopra Eccolo eccolo Ma si stava facendo il bagno Il bagno nel fango Disgraziato Non solo scappa Si prende anche il riposino Capito? Riane? Esatto Poi quando li ripeti Ok me ne devo riandare Perfetto perfetto Sembra proprio signor maiellino Qua sicuramente devi di nuovo costruire qualcosa Vedi? Vai Oh che bello Ma qua ti ci arrampichi Credo di aver capito già Fantastico Devi fare quel salto vai Salta Salta piccolo No aspetta Il raptor Possono balzare su alcuni oggetti lego Quali i binari raptor Tieni premuto Cerchio per puntare usando Ok Guarda Ok vai Questo sarà bello Sono prontissima Oh mamma mia Ma fanno pure parkour Cioè ma scherzi Sono fantastici Ma dove li trovi Le velociraptor così carini Sono fantastici Andiamo andiamo Abbiamo un maiale da trovare È nascosto qui da qualche parte Allora Fiutiamo la sciapuccina Ok E dovremmo vedere le impronte Vediamo Sì le vedi queste cosettine gialle Sì 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 Sono le impronte di Puccina Le le chiamo così Guarda guarda un'altra È qua Ma come fa a essere là Non si vede No Sei in qualche c'è spuglio Sicuro Lo vedi Lo vedi Ok Eccolo L'abbiamo trovato Questa volta dovete acchiapparlo però eh Dai acchiappatelo Eh vabbè scappa di nuovo No Entra o sei pancetta Entra o sei pancetta Ok Dai l'hanno preso Quindi è andata Ce l'abbiamo fatta Oh no Oh no Ma perché Ma perché l'ha buttato giù Stanno perdendo controllo Se lo vogliono mangiare Allora qualcosa che li distragga Qualcosa che li distragga dal pranzo Perché sì il maielino è il suo pranzo Alcuni personaggi possono trovare oggetti utili nascosti negli escrementi di Oh che chico Quindi nella pupù di neosauro possiamo trovare qualcosa di interessante insomma Qui 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 Vai buttati nella pupù di neosauro Ci deve essere qualcosa qui dentro No c'è solo pupù Ma guarda guarda tutto sta uscendo fuori Guarda Ma vabbè Cosa dobbiamo usare tra questi oggetti? Eh costruire qualcosa sicuro Cioè stiamo creando un robo gigante Con la pupù di neosauro cioè vabbè vabbè Mi sembra realistico Ok diamo energia Ops Eh gli hai dato un ceffone No no ti sbagli Abbiamo creato una giostra Si guarda Con pezzi di caldo Guarda i dinosauri Guarda i dinosauri Un pallone Perché? Ok gli abbiamo distrazione Guarda il maielino come l'ha spaventato No non scappare di nuovo eh Non scappare Girare Esatto Mamma mia Mamma mia Vai 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 Pesantissima Ok andato il maielino scappa perfetto Vai 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 scappa Questa è una situazione terribile E direi Ha perso i capelli Ha perso i capelli Allora Ho appena visto che rispondono ai comandi Dobbiamo prendere Vedisi infatti i dinosauri sono molto intelligenti E tu li puoi comandare E farti evitare Vedi Non li volete sul campo Facciamo un passo avanti E qual è la prima cosa che dice? Fate un anno Ecco qua Sempre così Sempre così I dinosauri sono carini Owen Owen Vorrei che venissi a Vedere una cosa Sembra uscita da Star Wars Sì Abbiamo creato Vorremmo valutare i punti vulnerabili del recinto L'Indominus Rex Cosa hanno creato? Che è fatta questa cosa? Credo Cosa hanno creato? Secondo me è un dinosauro gigante Vedi il T-Rex Top secret Dov'è? Perfetto Come dov'è? Eravamo qui Perfetto Questo si era addormentato E il dinosauro è scappato Queste porte non vengono aperte da settimane Non vengono aperte Sì abbiamo notato Quindi ha sfondato la porta Adesso in giro in libertà Questo T-Rex Pure intelligente Perché abbiamo capito Che qua i dinosauro Sono tutti intelligenti Quindi modificati geneticamente Qualcuno del genere Questo se ne è andato Sta iniziando a diventare Tutto più preoccupante Notato? Allora io non c'entrerei lì dentro Cioè tu vorresti vedere Se il T-Rex c'è o no Ecco infatti E vabbè però È il nostro lavoro Stiamo di nuovo cercando Nella pupù Vediamoci qualcosa di utile Cosa tu trova? No Niente? No no questo Per costruire qualcosa Ok L'arrampicata Sì mi piace arrampicarmi Mi diverto ogni volta Un sacco di soldi Che bella arrampicata Di pupù di dinosauro Sempre bella Guarda bellissima Bellissima È molto più solida Rispetto ad un'arrampicata normale Tu la prendi in giro Però è molto importante Che cos'è questa cosa? Cosa sono tutte queste cose? Allora queste boste Le pichi ti danno un po' di soldini Ma sinceramente Non ce ne facciamo molto Quindi ce ne frega poco e nulla Tanto poi essendo una demo Non è che ci serve Collezionare lì ora Esatto Allora Guarda però Questo posto è un po' strano Qui c'è un macchinine Ok Una voragine Mamma mia Ha scavato in terra Cioè Come Capito Ha scavato sotto Secondo me è riuscito così Dici? Comunque dobbiamo usare L'ingegnere per riparare gli oggetti Carina questa cosa Bellino Sì 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 secondo me Signor ingegnere Sono quasi sicura Che abbia scavato E sia uscito da sotto Perché vedi che si formano Delle voragini Quindi giustamente Il terreno sotto È stato scavato Non lo so Allora abbiamo un problema però Perché? Ah ok Vabbè rompi 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 Devo rompere tutto Per farli passare Perché l'ingegnere Non sa fare l'arrampicata Perché è un ingegnere Scusa Attenti Non sono morti vero? Tutto a posto Vada vada Su su Venga a riparare tutto Adesso quindi noi andiamo qua E possiamo riparare questo Marchingegno Che non so bene A che cosa servisse Per poi Credo trovare il dinosauro Guarda come ripara bene Bravo Bravissimo Non l'ha scalata Secondo me E non lo so Era molto arrabbiato comunque Cioè secondo me C'era qualcosa Che non gli stava bene Ha deciso di fuggire Beh Cioè Ha distrutto tutto il muro Il 111 mi dicevete Dovete subito abbandonare Oh no Oh no Dov'è esattamente? Non lo voglio sapere Non lo voglio sapere Non lo voglio sapere Camminate piano Oh mamma mia Jurassic Park insegna Che se vedi un T-Rex Devi stare immobile Quindi mi raccomando Stai immobile Aiuto Che ansia Dove mai sarà? Non lo so ma So solo che lo stiamo per incontrare E non ci voglio fare amicizia Sinceramente Ah neanche io Cioè l'hanno creato loro Che se lo tengano L'impianto elettrico è saltato Ah bene Perfetto Ok Dobbiamo usare lui Per Allora Tu Vieni qua Vieni qua Veloce Veloce Per favore Non perda tempo Si muova Si muova Perché c'è un T-Rex Devo premere tantissimo Ho notato Ok No ma ho fallito Eh sì Mi sa proprio di sì Ah dovevo tenere premuto Ok Ok andata Andata E non si capisce Quando devi schiazzare Come ti chiede a compare? Eccolo qua Oh no Oh no Ma c'è uno sulla sua testa Ok Finalmente il nostro potere Diventa utile Esatto Finalmente diventa utile Possiamo mimetizzarci Vai 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 Non mi vedi Non mi vedi Scusi lei Rimanga lì sopra Non si faccia sbranare Per favore Ok Mi raccomando Resista Stia nel muso del dinosauro È una nuova giostra del parco Esatto Cioè È tutto programmato Certo Era tutto programmato Ok dobbiamo ricercare nella pupù E costruiamo Ah costruiamo il cibo Per distrarlo Giustamente Mi sembra giusto Sì 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 Ok vediamo Vai 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 Vediamo cosa succede Lui adesso la vede Ehi c'è il cibo per te Guarda la merenda L'abbiamo preparato con tanta cura Sì Guarda Vedi sente l'odore Abbiamo messo il sale Tanto giusto come piace a te Leggermente piccante Quindi vai tranquillo Ok E se lo stavo mangiando Perfetto Eh ma adesso noi cosa dobbiamo fare ancora Ah non lo so Siamo qui incastrati con questo dinosauro che pappa tutto Triangolo X triangolo Triangolo X triangolo Ok Perfetto Vai 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 E scappa 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 Ma no Ma no ma rimaniamo noi chiusi Vai che ce la fai Aiuto Mamma mia Ops 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 Amico corri 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 scappa Nasconditi da qualche parte Ma scherzi Che questo apre pure le porte Aia Aiuto Aiuto Che brutta situazione Eh direi Cosa vuole fare Nasconde Nasconde l'odore sicuramente Però lui è più intelligente Sa che lì sotto Vedi Sì ok però guarda Che è molto intelligente Ha scelto qualcosa che puzza Sì penso tipo l'olio L'olio della macchina Perfetto Vedi che gli è rimasto appiccicato Siamo salvi Ma adesso c'è un problema E va a cuore l'isola Ha un impianto nella schiena Posso individuarlo Ok Però rimane il problema Che è lì in giro Eh esatto L'hai visto come è caduto Mi scherzo Che brutta situazione Abbiamo finito Sì immaginavo finisse così Perché giustamente Questa era solo una demo Ci lasciano la capita nel mezzo Infatti guarda questa immagine Secondo me parla da sola Dinosauri che ti inseguono E tu che scapi in moto Quindi mi sa che Questi esperimenti sui dinosauri Non vanno molto bene Quindi all'inizio Sembravano tutti intelligenti Tutti buoni Ma mi sa che Qualcosa va un po' storto Esattamente In ogni caso quindi Fateci sapere ragazzi Cosa ne pensate Il gioco secondo me È davvero carino Abbiamo visto che c'è questo C'è quello della Marvel C'è tipo Lego Dimension Che forse è in assoluto Quello che mi è sembrato Tutti i cartoni In sacche di cose Anche a me è sembrato Il più bello in assoluto Quindi fateci sapere Se vi piace l'idea Di portare questi giochi Perché sinceramente Ci è sembrata un'idea Molto carina Speriamo che vi piaccia E ci fermiamo così Beh ragazzi Vi piace così Se vi è piaciuto Facciate un bel like E se è la prima volta Che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Grazie per la visione!